Oggi continuiamo il nostro focus sulle carte fine art, un ottimo strumento per esprimere la propria creatività e trasformare le immagini in capolauri. Di carte fine art ne esiste un'ampia varietà, i cataloghi dei produttori sono molto molto complete. Esistono quindi carte per risolvere ogni idea che l'artista ha nella propria mente. Iniziamo proprio ad immergerci nella bellezza di queste carte fine art a cominciare da quella base cotone che hanno una resa straordinaria e che riescono a catturare ogni sfumatura di colore e ogni dettaglio con una nitidezza che ti lascia sicuramente senza fiato. Ogni nostro scatto si trasforma dunque in un'opera d'arte. Esistono poi carte con risultato a un effetto un po' più artistico, tipico delle belle arti e quindi a quel punto ci rivolgiamo alle carte fine art con la texture. Queste sono contraddistinte da una superficie leggermente più ruvida, riescono a dare alle proprie immagini, alle proprie fotografie più profondità, oltre che una piacevole sensazione al tatto. Fine, non possiamo dimenticare le carte fine art a pigmenti che combinano sia la resistenza alla luce che la vivacità dei colori, ideali per stampe che desideri esporre e che dunque garantiscono una durata nel tempo. Per ultimo, ma non per questo meno importanti, anzi in grado di poter mantenere sicuramente una grande qualità, le carte a fibre naturali come il bambù, l'argave o la canapa. Quindi scegli le carte fine art che significa dare vita alle tue visioni, trasformando la fotografia in un'esperienza sensoriale. Grazie. 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 Grazie.